Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. Si definisce una grandissima lavoratrice. Non so, lei dove l'ha sentita questa? Eh, lo dice sempre. Addirittura? Eh sì. No, penso che sia una balla. Il Ministero della Salute come lo vede? Così a caso? Ma no, comunque sa, il suo passato da infermiera... Chi? Come chi? Lei. A proposito, molti la definiscono l'infermiera di Berlusconi, ma è vero che dopo tutti questi anni lei riesce a capirlo a comando? Sì. E cosa fa quando ha bisogno di qualcosa? Abbaia. Scusi, lui è Abbaia e lei capisce? Certo, però Abbaia, prima Abbaia, poi si mette a girare intorno, poi cerca di aggrapparsi i pantaloni e poi... Scusi un secondo, eh. Ah, tra l'altro è proprio lui, Presidente Vicente. È ancora lì, la Ronsuli? Sì. Eh sì, è qui. La Meloni non le ha dato alcun Ministero. Parlate di altro, non dirle nulla, che ci rimane male. Mi ha sentito. Allora, concludiamo questa splendida intervista con un po' di introspezione, va bene? A fronte di questa notizia cosa vuole consigliare a se stessa? Di starsene a casa. Ah, così? Cioè... Sì, che vada al Giardinetti e portare fuori, non so, cosa c'è da fare. Grazie. 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 Grazie.